Molto lunga la rincorsa, Gentile contro Martello, L'Arbitroff accenno ai difensori della Vila Franca di star fuori dall'area, fischia in questo momento, rincorsa lunga da parte del capitano... Oh, para! E para! E gol! E gol! E gol di seconda! E gol di seconda! E gol di seconda! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia!